Ciao, sono Francesco Boccia, campione del mondo di pasticceria 2015. La prima volta che sono stato in Cast è stato nel 2010. Castalimenti è stata la mia casa per tutti i corsi di formazione che ho frequentato qui e per due volte consecutive sede degli allenamenti della squadra italiana di cui ho fatto parte. La mia passione ovviamente è la pasticceria e quando fai del tuo lavoro la tua passione io penso che non lavorerai mai un giorno. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di riuscire a vincere la coppa del mondo di pasticceria quindi una volta raggiunto l'obiettivo adesso bisogna cercarne un altro. Essendo figlio d'arte e quindi terza generazione di pasticceri Castalimenti è stata la mia seconda famiglia perché qui ho potuto sviluppare quello che è il mio bagaglio etico e professionale.